Per rappresentare che allo Stato il bilancio previsore del 2019 si presenta per tutti voi del seguito, ma anche per il Consiglio della sua ricerca, come parte di una selezione di un'azione di successione che in quanto tanto non regola alcuna responsabilità rispetto alle scelte che è spesso per tutti, rispetto ai suoi contenuti e ai valori finanziari che vi sono importati. Ma sono capito che, scusa la consapevolezza che è posto con tutti, e rispetto del cuore di questa mancanica che la legge assieme a Gesù, se degli attori con i posti e della complessa fase dell'informazione, lo so che le faccio è spesso affinché un'azione di costa sempre in cuore, costituire, ma che è la rappresentazione in piena sorpresa dei mali e della Gesù. Grazie. 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 Grazio Mariano, presente Lula Nicola, presente Castellina Sela Rosario, presente Carlo Andrera, presente Alecchio Salva, presente Enda Giorgio di Costituzione Fignola Pasquale, presente Padre Luisa, presente Rossetto, presente Padre Cistante, Rossetto, Cistante Sono presenti Mi vedo Massimo, presente Padre Giuseppe, presente Verde D'Arianna, presente Diarra Sonsatore, presente Ravaglia Vicente, presente Ruzzo Angela, presente Floriano Gennaro, presente Degesima Gera Abra, assente Giustificato, presente Giustificato, presente 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 Quindi diamo la parola All'assessore Allora, il numero Indegale Diamo la parola All'assessore Confritti Grazie Grazie